Erano da poco trascorse le 10 stamane quando un'auto si è ribaltata mentre percorreva la statale 85 Venafrana. L'incidente è all'altezza del bivio per Monteroduni. A guardare l'utilitaria cappottata e schiacciata sull'asfalto con il cumulo di detriti sparsi ovunque intorno, ha dell'incredibile che l'uomo al volante, l'unico all'interno dell'abitacolo, ne sia uscito con le sue gambe e praticamente in colume. Ad ogni buon conto un'ambulanza del 118 è a corsa rapidamente insieme agli altri uomini e mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. Seguivo ad una distanza di circa 100 metri. All'improvviso ho visto l'auto finire su un rialzo in erba a bordo strada che ha creato un effetto trampolino. A quel punto è impossibile evitare l'impatto contro un palo in ferro della segnaletica stradale. E' quanto ci ha riferito uno dei testimoni del sinistro. Non ho temuto per la mia incolumità ma è stato incredibile vedere come quell'auto in un istante ribaltandosi abbia letteralmente preso il volo. Ancora il commento di chi era lì. A ulteriore testimonianza della violenza dell'impatto il fatto che la base in cemento a cui era ancorato il palo di velto è stata trascinata via per decine di metri. A margine da rilevare che durante le operazioni di bonifica della carreggiata lungo il trafficato tratto stradale si è creato a una fila chilometrica fortunatamente riassorbita in meno di un'ora.